Ciao ragazzi, eccoci se vi trovate a un nuovo video, finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a tornare su YouTube e fare un po' di contenuti. Lo so, sono sempre piuttosto tirato, ma cercherò da qui in avanti anche se è estate, lo so, ma è forse questa la scusante che mi permetterà di avere un pochino di tempo in più e quindi mi permetterà anche di continuare a fare video anche qua su YouTube. Ma di cosa parliamo in questo video? Oggi voglio rispondere a una delle domande che ho ricevuto all'interno dei commenti. La domanda è, si può creare un sito internet anche senza acquistare un dominio? Beh, non la farò molto lunga, la risposta è sì. Attenzione però perché sì, posso comunque creare un sito internet, ma questo sito internet non potrà essere visibile da chiunque, ovvero non sarà accessibile online, ma solamente accedendo dal computer dove questo sito si trova. Facciamo un esempio, un sito internet nient'altro è che una cartella, ok, con all'interno tanti file. Questi file dovranno essere di tipo HTML, CSS, PHP, insomma di un linguaggio leggibile a browser. Ovvio è che se vado a mettere questo cartello online all'interno di un server, a questo punto il sito sarà accessibile mediante il www.nome del mio sito web.it. Ma se io non volessi acquistare subito un dominio, attenzione, perché non dovrei acquistare un dominio? Perché molte volte potrebbe essere non strettamente necessario dover subito investire nell'acquisto di un dominio o di uno spazio hosting, anche se ad oggi i prezzi sono abbastanza ridotti, ma magari in fase di sviluppo o in fase appunto di progetto, che può dilungarsi anche diversi mesi, io posso comunque lavorare nel mio ambiente test, ovvero sul mio computer. Quindi facciamola breve, altrimenti non arriviamo al sodo. Cosa vedremo in questo video? Vedremo come creare una pagina web, non un sito internet, una pagina web e come renderla visibile all'interno appunto del mio computer. Attenzione perché lo so su quello che stavi pensando, ma è normale che una pagina HTML salvata sulla scrivania possa essere vista anche all'interno del mio computer, perché tanto nient'altro è che un file che se viene caricato a browser questo verrà visto. Ma la problematica c'è quando io voglio andare un pochino oltre alla semplice pagina web, ad esempio utilizzando un CMS come WordPress. Come faccio a vedere WordPress all'interno del mio computer? Eh, vera domanda. In questo video appunto andremo a vedere come installare un CMS composto appunto anche da file PHP e come renderli accessibili dal nostro computer senza ovviamente dover registrare un dominio o acquistare uno spazio hosting dedicato. Insomma, non dilunghiamoci troppo e come al solito entriamo nel vivo di questo video. Ok, partiamo. Per prima cosa andiamo su Google e raggiungiamo il sito di Mamp. Senza troppe spiegazioni andiamo direttamente a scaricarlo e nel mentre te lo vado un po' a spiegare. Mamp cos'è? È un localhost, quindi è un server virtuale che permette di andare a ricreare appunto uno spazio server come quello che ci viene fornito dai hosting provider quali, non so, Aruba, Support Host, Vhosting e il server dove verranno caricati i file delle nostre pagine web, dei nostri siti web. Tutto molto utile e necessario logicamente se vogliamo andare online con un sito internet però se vogliamo avere un ambiente intermedio dove andare a testare i nostri lavori soprattutto quando viene richiesto l'utilizzo di PHP o database quindi ovviamente file che non funzionerebbero altrimenti necessiterebbero comunque di un hosting e di un database perciò in fase magari di sviluppo del sito, in fase di progettazione prima di andare a comprare, acquistare tutti questi servizi anticipando magari anche dei soldi, il localhost ci viene in aiuto perciò possiamo utilizzare Mamp come server virtuale dove andare a posizionare i nostri file andare a fare tutte le nostre prove, sviluppare il progetto possiamo mantenerlo lì per diversi mesi all'infinito tendenzialmente e alla fine quando il cliente o quando noi vogliamo andare online a quel punto faremo uno switch, quindi andremo a sovrascrivere quelli che sono i comandi all'interno del database per cambiare l'url che a quel punto non sarà più localhost slash nome del nostro sito ma sarà www.nomedalnostrosito.com.it però magari questa cosa la vedremo in un altro video nel dettaglio ora concentriamoci su come andare a ricreare un sito web e mantenerlo all'interno del nostro pc, del nostro computer allora cosa ho fatto? Sono andato su Mamp, ho fatto free download ho selezionato il mio sistema operativo, in questo momento io ho un Mac con Intel e ho appunto avviato il download una volta avviato il download, cosa faccio? lo scompatto e vado diciamo avanti nella procedura guidata lui qua mi dà tutte le istruzioni, mi chiede la lingua, va bene lasciamo inglese mi dice dove andare ad installarlo, accettiamo e ora io non faccio installa perché ho già Mamp installato sul mio computer però tu fai installa, vai fino alla fine e in automatico appunto ti darà installazione completata ok, io in questo caso l'ho già, perciò qua chiudo e vado a raggiungere Mamp e come si presenta? allora vabbè a parte questi bei messaggini qua di pubblicità o quant'altro perché stiamo usando la versione free, si presenta in maniera molto semplice è questa finestrella ora qui partiamo, vediamo un po' di opzioni abbiamo le preferenze dove, 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 dove ci dice quando Vio Mamp apri anche i server piuttosto che fai una serie di opzioni io in realtà penso di non aver mai modificato niente di tutto ciò però una cosa che ci interessa vedere è questa parte qua server, ovvero dove è il nostro server qual è la cartella fisica nella quale dovrò andare ad aggiungere poi i miei file è questa qui la raggiungo attraverso applicazioni Mamp, HTDox perciò io qua lascio aperto tutto raggiungo le applicazioni ok dov'è? qua raggiungo le applicazioni e vado appunto in Mamp qua e poi HTDox quindi Mamp HTDox ok e io qua infatti ho dei siti di prova roba utilizzata ancora per i video di YouTube perfetto ora questo HTDox è il anzi facciamo così questo qua mettiamolo qua in old così almeno non faccio casino è un ambiente pulito ok li metto qua tanto non mi interessa questo index per capire se non sbaglio dovreste averlo in caso vabbè fa niente questo HTDox è praticamente la cartella fisica dove che riproduce il nostro hosting il nostro appunto spazio hosting che che conterrà tutti i file del nostro sito web cosa facciamo? qui dentro dovremo andare a installare tutti i nostri file quindi nel nostro caso installare l'installazione no? di WordPress perciò non perdiamo tempo andiamo spediti su wordpress.org e facciamo get wordpress e scarichiamo wordpress perfetto torno un attimino a Mamp una cosa molto carina di Mamp è che io qui posso tra l'altro ecco devo cliccare su start nel mentre che terminiamo il download che tra l'altro è finito vabbè clicchiamo su start così da avviare il localhost una volta che questo viene avviato vediamo se ce la fa ci viene aperta appunto la pagina iniziale dove abbiamo localhost 888 e un percorso questo localhost 888 ci servirà perché sarà il percorso che dovremo scrivere per raggiungere la nostra pagina il nostro sito e qui dentro una serie di tools e di strumenti tra cui phpmyadmin phpmyadmin se utilizziamo un sito wordpress come nel nostro caso ci serve ci serve perché wordpress necessita di un database ecco perché mi serve un localhost perché viene a supporto proprio di questa fase mi fornisce gli strumenti necessari per lavorare con php quindi adesso andiamo su phpmyadmin creiamo un nuovo database quindi cosa facciamo andiamo qua gli diciamo nuovo ok io qua metto il nome del database e lo chiamo lo chiamo lo chiamo nuovo sito test ok creiamolo perfetto il database è stato salvato ora attenzione devo andare nei privilegi ricordarmi qualche non utente perché se no questo qua comunque è fondamentale ci verrà richiesto e perfetto è perfetto io so che nuovo sito test cosa facciamo prendiamo la cartella di wordpress questa qua e la buttiamo all'interno di htdocs del nostro localhost la scompattiamo perfetto così da vedere proprio l'installazione questo zip possiamo cancellarlo via e questo wordpress lo chiamiamo non so nuovo sito perfetto ok fatto ciò quindi abbiamo scompattato la nostra cartella e abbiamo creato il nostro database cosa facciamo raggiungiamo la pagina di inizio del localhost e se non l'avessi aperta ti basterà andare su localhost e cliccare qua su start oppure su web start in automatico verrai rimandato sulla prima pagina e cosa facciamo andiamo a cancellare tutta questa parte e mettiamo dopo 888 slash il nome della nostra cartella nuovo sito e in automatico cosa succederà? succederà che partirà l'installazione di wordpress proprio come appunto se fossimo stati online quindi io vado a mettere la lingua italiano e vado a fare la configurazione attenzione perché la prima parte appunto è semplice la seconda è un pochino più complessa infatti ci verrà ci verrà chiesto il nome del database il nome utente la password l'host e così via iniziamo vediamo ogni roba alla volta allora nome del database nome del database è questo che abbiamo appena creato quindi lo copiamo copia e lo incolliamo nome utente è quello che ho visto prima nei privilegi qui dentro appunto bisognerà creare un nome utente io adesso ne ho già alcuni eventualmente noi possiamo dire aggiungi account utente e diciamo account metto nuovo utente nome host mettiamo locale quindi localhost password metto una password la reinseriamo perfetto qui lasciamola così seleziona tutto va bene e facciamo esegui dovrebbe dovremmo esserci dovrebbe essere tutto pronto quindi cosa faccio torno qua e gli metto il nome dell'utente che ribecco ribecco dove in nuovo sito test privilegi nuovo utente perfetto copia con la password la password che abbiamo messo localhost che è il nome del database host del database scusami localhost che è quello che abbiamo appunto indicato qua perfetto prefisso tabelle è un prefisso che diciamo identificherà le tabelle all'interno del database lasciamo così facciamo clic su invia e ottimo lavoro perfetto se abbiamo compilato correttamente ogni campo ci dirà ottimo lavoro quindi tutto a posto avviamo l'installazione mettiamo il titolo al sito nuovo sito test nuovo utente mettiamo il mio nome password ciao ciao confermo l'uso della password debole email metto la mia mail scoraggio motore di ricerca installa wordpress ok congratulazioni wordpress è stato installato accedi allora nome utente vi ho detto edo guard ui ciao c'è rinaldi password difficilissima e accediamo ecco qua che abbiamo pronto il nostro bellissimo sito wordpress all'interno del nostro computer io in questo caso non sto andando su nessun sito web www.nome del sito ma sto agendo direttamente su questa cartella presente all'interno delle mie applicazioni tant'è che se io andassi qua e dicessi 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 adesso vabbè che tema abbiamo installato vediamo aspetto temi 2023 infatti io vado in visita al sito web andiamo a vedere questo elemento volesse cambiare il colore di questo elemento a codice io posso dire posso dire che questo pezzettino qui ok anzi andiamo sul body che è un pochino più semplice perfetto body io volesse cambiare il colore del body cosa faccio vado all'interno di vediamo con le css collegate adesso lo sto facendo un po' difficile ma stylemin css va bene quindi vado qua vado 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 nel 2023 perfetto 2023 vado all'interno del template stanzi styles vado 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 questo maledetto dov'è 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 non c'è un tema tipo questo qua 2021 che è un pochino più semplice attiviamolo ce la faccio ce la facciamo voglio arrivare al punto in cui ti faccio vedere che modificando parti di questo tema si può fare veramente veramente di tutto quindi 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 index.php dovrebbe prenderlo modifica con visual studio code lo apriamo ok e io qua vado entro diciamo di cattiveria e gli dico style ok style e gli dico che il body dovrà avere un background color ok red andrà? non lo so la vedo un po' dura mettiamogli anche important incrociamo le dita eccolo qua funziona perfetto e quindi 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 è tutto questo per dire che possiamo agire direttamente sul nostro computer senza dover andare a acquistare server domini e quant'altro in questa prima fase perciò possiamo fare tutto quello che vogliamo utilizzare le funzioni di php utilizzare tutto quello che è generalmente presente all'interno di uno spazio hosting per sviluppare i nostri progetti online quali siti internet pagina web e tutto ciò che necessita di un server niente spero che ti sia piaciuto questo video fammi sapere se già conoscevi qualche localhost se già li stai utilizzando e se hai ovviamente nuovi consigli per i prossimi video ti ringrazio per aver guardato e noi logicamente ci vediamo alla prossima